Oh, ciao coglioni di merda, come state? Mi chiamiamo, mettiamolo i 16 noni, oh che cazzo è? Sono qua a casa di Dani, mi chiamo a suo telefono, non riesco a usarlo Allora, eccoci qua con il video unboxing di... Sto gioco qua, che lo vendiamo a 9,90€, eh Solo da noi, 9,90€, sto parlando di Star Wars Battlefront Gioco che è in promozione da Noiland Rune del GameStop fino al 2 maggio 9,90€, vi faccio vedere anche lo scontrino, 9,98€ Non so se si vede, comunque 9,98€ insomma Per uno sconto falso, perché noi siamo proprio dei ladri di merda È una pagliacciata che stiamo facendo, ma voi non lo dite agli altri, eh Andiamo a fare l'unboxing di questo gioco, raga, video girato tutto col cell, non rompete il cazzo Presto torneremo tutti insieme, eh, sul canale di Dani Rimanete fedeli, coglioni di merda Sto spacchettando qua, scusate, raga Insomma, che due coglioni Facciamo vedere che sto aprendo il pacchetto Allora, gioco esclusivamente online Quindi non venite poi a rompere il cazzo Il gioco non ci piace Non era bello Non mi trovo Non ho l'abbonamento PlayStation Plus Perché minchia Eh, lo sanno anche i mongoloidi Che 9,90€ Per 9,90€ cosa volete? Che il gioco abbia anche una storia Allora, qua Dentro alla custodia c'è La battaglia di Jakku Che Praticamente dovrebbe essere disponibile all'interno del gioco come mappa C'è il Season Pass anche Season Pass Non so se c'è Non lo so, raga Non ne capisco un cazzo Comunque so solo che il gioco è tutto online E poi qua dietro c'è Una cosa per scaricare un'applicazione Da Google Play Store E poi un foglietto inutile della garanzia Ricordo a tutti che Io ho anche la faccia tosta di chiedere In negozio Se volete la garanzia sul gioco Che non ha nessun senso chiedere di fare una garanzia Su un gioco nuovo Il gioco ha 9,98€ Comunque ragazzi Ve lo consiglio Ecco qua il disco di gioco Di Star Wars Battlefront 9,98€ Per PlayStation 4 Non so se negli altri GameStop lo vendono anche per Xbox One O se il titolo è uscito per Xbox One Che cazzo me ne frega me Io a Dani glielo ho regalato Perché questo si merita Non è che si merita giochi più belli O che costano di più Dietro ci sono questi screenshot Che vedete Vivi in prima persona le battaglie di Star Wars Domina il fronte della battaglia con i leggendari personaggi di Star Wars Battaglie terrestri su scala galattica di Omadonna E PC duelli spaziali in stile Star Wars Ragazzi Ci ritroviamo presto sul canale Dani Maggio Il vostro Yuri vi saluta E rimanete sintonizzati per altri nuovi video Scusate se Dani appunto caricherà questo video direttamente Cioè più che altro glielo carico io direttamente sul suo canale YouTube Non è che stiamo a mettere sigle e a perdere tempo Rimanete sintonizzati perché arriverà una nuova rubrica Con me, Albano e altri coglioni di merda Per il momento mi fermo qua Ciao a tutti i pagliacci E lo stop Non va questo telefono Cazzo Io madonna Che cazzo è? Non va Minchia ma non è possibile